Dove vi orto? Là! Fiorenza de Bernardi nasce il 22 maggio 1928 a Firenze. È figlia di Mario de Bernardi, pioniere dell'aviazione italiana, che è stato uno dei migliori piloti al mondo, ma anche uno straordinario collaudatore e inventore, ed è proprio colui che imparerà a volare. Fiorenza consegue il primo brevetto nel 1951, partecipa ad eventi di volo sportivo e gare. Nel 1967 entra all'Air Alpi, diventa così la prima donna pilota commerciale in Italia, poi il brevetto di pilota di montagna, nuovamente prima donna in Italia, e comandante dell'Air Tirrena, ancora prima donna in Italia e quarta al mondo. Sposata, separata, senza figli, termina la sua carriera a seguito di un incidente d'auto, nel 1985, con all'attivo 7000 ore di volo. I genitori, dopo gli studi all'Accademia delle Belle Arti, la lasciano libera di scegliere il suo futuro. Prendo una baita in montagna, vendo birra e salsicce, e in città non mi vedete più. Insomma, il volo non era proprio nei suoi pensieri, ma il destino voleva Fiorenza tra le nuvole, e lei, con grazia e caparbietà, ha scalato tutti i gradini di una carriera a un tempo preclusa alle donne. La divisa, per esempio, l'ha voluta subito con la gonna. Si deve vedere da lontano che sono una donna. Grazie. Come, come è? Fiorenza, per noi sei una fiorentina. Dammi del tuo, vai, che io non so capace. Subito. Anzi, se vuoi si parla pure un po' in fiorentino, perché in realtà sei nata a Firenze. E sono nata a Firenze, sì. E poi ti sei trasferita subito a Roma. Sì, a due anni, però poi sono tornata all'aeroporto di Firenze a dieci anni, lavoravo basata lì. E Firenze ti è rimasta nel cuore? Beh, sì, eh sì. Io sono proprio fiorentina. Ti consideri proprio fiorentina? Sì. Oddio, voglio bene anche a Roma, per l'amor di Dio. Però sono fiorentina. E la famiglia di mia madre pure è fiorentina. Invece da parte di mio padre sono piemontese. Raccontaci della prima volta che sei stata, insomma, in volo. Se ti ha portato papà oppure no. Guarda, io appunto devo ai miei, che pur essendo figlia unica e tutto quello, mi hanno lasciato libera nelle mie scelte, nel sì, nel no, eccetera. Infatti ogni tanto, prima mamma era la più militare. a quell'ora si mangia, non si lascia niente del piatto, quelle cose lì, per carità. Però poi io pigliavo un sacco di spalle, me ne andavo, e lì fino alla fine non c'erano i telefonini. Guarda, andava una cosa meravigliosa. E quindi ti accampavi nelle montagne, così, fuori da tutto, che è molto bello. E con il tuo babbo, visto che sei toscana, con il mio babbo, e con il mio babbo, andavamo d'accordissimo, sì, era un uomo meraviglioso. A parte che è stato uno dei piloti più grandi del mondo, e lo dico proprio, lo so. Ma poi è stato un padre fantastico, perché anche lui, ma anche lui, nessuno mi diceva, ma vuoi volare, ma proviamo? No, io pensavo sempre che me ne sarei andata con una baita in montagna, e quindi il volo era dietro. E lasciamelo dire, di per sé era già un sogno abbastanza originale. Come mai da Firenze alla baita? Ma io le montagne le ho amate da quando sono nata. E allora, poi invece un giorno un amico di mio padre gli fa, che vuoi salire da un grosso aereo militare? Salgo, ho fatto io. Dopo, quando sono scesa, disse a mio padre, ma che aspetti a farmi fare un brevetto? Quanti anni avevi? Da un momento all'altro. Sui venti, 19-20 era quella l'epoca. Allora, e allora abbiamo cominciato. E tuo padre cosa ti ha detto? Eh? Tu padre cosa ti ha detto quando gli hai detto, quando... Mi hai detto va bene. Sì. E allora lo facciamo. Senza problema. Allora però, volavo allora prima, ti copro l'indicatore velocità perché se si rompe, ti copro l'indicatore di quota perché se si rompe, cioè tu devi sentire gli aeroplanini piccoli col sedere e ti devi arrangiare anche senza uno strumento, capito? Cioè lui voleva che sapessi atterrare comunque. Allora un giorno che uffa, dissi guarda vado a fare un volo con Morici, era un vecchio struttore che stava lì all'aeroclub di Roma. Invece mi... Vai vai! Mi ha detto, mi sono messa nell'aeroplanino, dato un motore e me ne sono andata. Un volo che non scorderò mai, guarda, c'era un falco che volava sotto di me. Una meraviglia, finalmente sola in questo cielo. poi ho terrato tutto bene e dopo ho deciso che mi dice è felice perché gli ho tolto il momento che è il momento dell'istruttore peggiore, diciamo, peggiore per modo di dire, nel quale devi atterrare con l'istruttore e lui scende e ti dice vai. E quello è sempre un momento per l'istruttore di grossa responsabilità. Invece io gli ho tolto quel momento. Gli hai fatto un favore anche a lui? Ho fatto un favore. Essere intraprendenti ci si guadagna sempre. E poi, infatti, sai, poi è stato no, perché a volte ci si pensa e invece a un certo punto c'è stato con le prime poi americane da studiare un sacco di cose. Quanto può volare incinta una donna ai comandi? Cioè, tutte cose da studiare con medici poi. Quindi ci siamo trovate in gruppo e appunto a studiare queste cose. Tu, unica italiana con colleghe americane. Sì, dopo sono, hanno cominciato dopo di me le americane. Però poi ci siamo incontrate con qualche medico a studiare un po' queste cose. C'è chi ha volato fino al quinto mese di gravidanza? Non in Italia perché qui arriviamo sempre dopo su queste cose. No, ma anche perché all'inizio in Italia tu eri la sola e in principio ma come sono cominciate da qualcun'altra abbiamo dovuto trovarci e ragionarci sopra. E quindi meno male che tuo padre ti ha insegnato ad atterrare in qualsiasi tipo di condizione di prima eccetera eccetera perché tu hai dovuto affrontare anche degli atterraggi di emergenza particolarissimi. Beh, vabbè, certe volte capita. Dico non coi passeggeri per fortuna però io sono finita. Guarda qui c'è quando sono finita nell'acqua sott'acqua. Quello è un libro con la sua vita? Sì. Ci sono anche delle immagini bianco e nero bellissime. Adesso se viene fuori sennò ciccia. Sennò ce lo racconti tu. Sì. Eccolo, vedi? Eh. per esempio senza un graffio. Ce la facciamo Salvatore? Non lo so perché è molto piccola ma insomma quello in acqua è il suo aereo. Mamma mia che spavento. No, ma appunto quello per dire sono tutte cose però che manca un graffio. E poi mi sono andata invece a infrosciare con la macchina perché mi sono addormentata. Ma questo molti anni dopo, molti anni dopo. Però mi racconti di quella volta in cui sei atterrata? Nella Villa Bamelec? Oddio, anche questa? No, io dicevo un'alta montagna e che c'era? Ah beh, anche quello lì c'è la fotografia se la vuoi vedere con l'iglue e con l'aeroplanino in montagna. E beh, ma io sono pilota di montagna. allora dunque noi eravamo in due e quella volta lì questo mio collega mi disse Toscano anche lui e vuoi fare qualche atterraggio prima che arriva alla scuola che me lasci qua su? E dice vado e torno si è chiuso tutto tutto è nubito non è più po' il cielo si è chiuso è arrivato giù a Trento e quindi io sono rimasta lì però per fortuna c'era proprio quello che era stato il mio struttore di volo in montagna con un allievo e anche loro bloccati lassù quindi eravamo in tre e allora ci siamo fatti l'iglue e ci abbiamo dormito era che cosa? l'iglue avete fatto un iglue? e ora te lo faccio vedere come si fa un iglue Fiorenza? allora si pillano mattoni di neve si mettono tutti intorno così e man mano a scalare e poi ci butti la neve sopra avevamo 20 sotto 0 di fuori e 0 dentro è fascinantissimo invece dei castelli di santa e dei castelli di santa e quindi si vede ecco vedi? eh è vero è vero questi sono i due aeroplani e anche qui è difficile ma ci proviamo ci proviamo datemi una camera piccolo piccolo qua là dove? una una qualsiasi ragazzi sì? ecco questo è il suo aereo e questo è l'iglue che hanno costruito loro e poi c'è l'altro aereo per quanto tempo siete rimasti lì sotto? eh beh siamo stati una mezzagiornata tutta la notte senti sono le notti più belle senza un telefonino senza chi te lo portatemi in un iglue fuori dal mondo capito? ma è vero è vero sei fuori da te queste confusioni dove siamo tutti i giorni senti dimmi la verità tu sei diventata pilota e hai amato il volo perché lo faceva tuo padre beh certo mi sono trovata in mezzo per quello se no magari non andavo neanche in aeroporto invece ci vivevo in aeroporto ma quando tu hai iniziato a volare te lo immaginavi tuo papà che dalla terra ti guardava ed era orgoglioso di te? sì sì lui era contento sì sì ti dava mai dei consigli? a voglia guarda che bella questa foto questa ve la devo far vedere perché è troppo bella e beh sta tutto qua dentro vedi qua sono io con l'aereo sulla rime e mo te faccio vedere chi è lui? questo è Geiger che è stato uno dei più grandi piloti di montagna svizzero ti sei mai innamorata di un pilota? di mio marito no ah te lo sei sposato? anche però poi ci siamo separati e dopo ci sono stati altri amori? beh vabbè degli amori in passato però ti dico io per esempio non ho fatto figli perché io ritengo che coi figli ci devi stare cioè o tu fai un mestiere o stai a casa con i figli oppure è meglio di no perciò tu hai sposato il tuo lavoro la tua voglia è l'avventura sì la tua voglia è di volare io l'ho sposato il mio lavoro sì Clarenza è classe 1928 tra poco ne facciamo 90 se ci arrivo ne faccio 90 invece le donne il rapporto con le altre donne non dico le tue colleghe vedi tu parlavano di me pure in Turchia perché passavo con quest'aereo che ho portato in Australia si va a dimostrarlo anche alle telecamere? l'ho portato in Australia ora qua Salvatore beh vabbè sono tutte cosettine che gli adò piccoline ma quello vabbè con lo Yak ma con quell'altro in Turchia ma le altre donne? in Australia su qualche giornale è venuta questa donna che è arrivata dall'Italia a presentare un aeroplano eccetera ero anche con un altro comandante e allora ogni tanto nell'aria sentivo hello Florence così girando per la strada era simpatico no? suoi eri diventata famosa eri famosa in tutto il mondo eri orgogliosa di questo? eh beh ti fa piacere no? non è che se ti sputano in faccia è peggio ma ti rendevi conto che eri una pioniera oppure no? si vedi anche qui quando ho cominciato il 18 sono la prima che ho fatto il 18 hai fatto il 18? e quindi sono uscita sui giornali perché ero la prima donna sul 18 e qui ce li avevi sì i passeggeri? quello era grosso il 200 mamma mia e dove sei andata col 18? beh con il 18 lo stesso facevamo Milano Firenze giù poi l'America qualche volta ma non è stata molto spessa il tuo ultimo volo te lo ricordi? il mio ultimo? oh mamma ma il mio ultimo deve essere stato tornando dall'Australia perché dopo ho fatto l'incidente d'auto quindi l'ultimo deve essere stato quello grazie a tutti